C'è una vecchia storiella, due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice, ragazza mia il mangiare qua dentro fa veramente pena e l'altra, sì è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità e disgraziatamente dura troppo poco.